Costa a Napoli, sit-in degli attivisti. Il ministro Costa contestato a Napoli al raduno COP21 sul Mediterraneo, prima la protesta del VUF in piazza Municipio, poi il flash mob di Marevivo con persone vestite di nero e mascherato con il volto dell'urlo di Mug. Omicidio dello zainetto, preso l'ultimo killer, era sfuggito alla cattura nel corso dell'ultimo blitz dei carabinieri, lo hanno scovato a Scampia, si chiude il cerchio sul commando che ha ucciso Luigi Mignone sotto gli occhi del nipotino davanti alla scuola di Rione Villa. Regionalismo, DEMA contro Lega e De Luca, Comune di Napoli e Università firmano un protocollo d'intesa contro la riforma in atto richiesta dalle regioni del nord. Per il sindaco De Magistris c'è chi anche nel PD rincorre la Lega sul tema dell'autonomia e attacca Bonaccini e De Luca. Diritto di cronaca, lite stampa penalisti, ad Avellino è scontro tra giornalisti e avvocati dopo la diffusione di notizie sulle aste giudiziarie. Il presidente dell'ordine Lucarelli difende i cronisti irpini, hanno fatto il loro dovere, ma gli avvocati protestano. Vigili del fuoco, SOS nel giorno di festa. I caschi rossi hanno ricordato oggi in campania la santa patrona del corpo. Tempo di bilanci per i cinque comandi provinciali e le decine di distaccamenti. Manca il personale, ma aumentano gli interventi di soccorso. Salerno svolta per Porta Ovest, ok alla firma della convenzione tra autorità portuale e autostrade meridionali. Altri 60 milioni stanziati dalla regione. De Luca annuncia sarà un'opera decisiva per la città del futuro. I lavori saranno completati nel 2020. Erano questi i nostri titoli. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel 696. Allora lo avete sentito in primo piano i temi ambientali con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che aspettando la sottoscrizione, la carta di Napoli, è stato contestato dagli attivisti. Prima il sit-in del WWF in piazza Municipio, poi il flash mob di Mare Vivo con persone mascherate. Vediamo. Si è aperta con il sit-in del WWF in difesa del mare in piazza Municipio a Napoli la giornata del ministro Sergio Costa, arrivato nel capoluogo partenopeo in occasione della conferenza COP21 sulla Convenzione di Barcellona per la protezione del mar Mediterraneo. Stiamo parlando di mare in litter, di inquinamento, di bioeconomy, di tutela della biodiversità e ogni paese si darà un compito sotto la presidenza italiana che durerà due anni per fare delle determinate cose. E questo mi sembra un elemento importante considerato che sul mar Mediterraneo si affacciano 500 milioni di cittadini ma è anche il mare con la maggiore biodiversità. Gli attivisti hanno chiesto più tutela per il mare ai ministri dell'ambiente dei paesi del bacino del Mediterraneo presenti alla conferenza. Entrando a Castel del Lovo il ministro Costa si è fermato a parlare con gli attivisti di Mare Vivo che insieme a Univerde hanno inscenato un flash mob sul lungomare. Alcune persone vestite di nero e mascherate con il volto dall'urlo di Munch portavano con sé cartelli con la scritta The Sea Screams, il mare urla. Di fianco all'oro giovani attivisti vestiti di blu esponevano cartelli con possibili soluzioni per salvare il Mediterraneo. A Costa sono stati consegnati due documenti sulla sostenibilità del mare. Adesso è il tempo di agire, cambiare il modo di rapportarci al Mediterraneo, evitare tutti questi impatti ed avviarci verso attività economiche sostenibili, proteggere la natura, proteggere il mare per proteggere le persone e quindi ci aspettiamo obiettivi chiari, stringenti, ambiziosi e obiettivi che poi devono essere perseguiti con molta chiarezza e determinazione. Non possiamo più aspettare né noi né il nostro mare. Scontro mortale su via Vecchia San Rocco ai colli Aminei dove ha perso la vita un centauro. Il grave incidente ha coinvolto due uomini a bordo di scooter di grossa cilindrata che provenivano da direzioni opposte e si sono scontrati frontalmente. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 e la violenza dell'impatto è stata fatale per Mariano Panariello, un 38enne napoletano che guidava uno T-Max. L'uomo trasportato all'ospedale CTO è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo e successivamente è stato trasferito nel reparto di medicina legale del Policlinico Federiciano dove verrà effettuata l'autopsia. Ancora cronaca, parliamo dell'omicidio dello zainetto. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato il terzo uomo insieme ai suoi complici e accusato del delitto avvenuto davanti alla scuola di San Giovanni a Teduccio. Vediamo. È stato assicurato alla giustizia anche l'ultimo uomo dell'omicidio dello zainetto in cui perse la vita Luigi Mignano e rimase ferito il figlio davanti alla scuola elementare Vittorino da Feltre a San Giovanni a Teduccio. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato Pasquale Ariosto, 36 anni di San Giorgio a Cremano. L'uomo era sfuggito al recente blitz dei carabinieri che ha visto finire in carcere Giovanni Salomone e Giovanni Borrelli. Era il 9 aprile 2019. La vittima si trovava davanti alla scuola e stava accompagnando il nipotino quando uno scooter con due sicari si è avvicinato a loro e ha aperto il fuoco. Il nonno del piccolo ha perso la vita nell'agguato mentre il figlio Pasquale è rimasto soltanto ferito. Le indagini dei carabinieri hanno subito portato alla luce importanti particolari. Il 4 maggio scorso le investigazioni hanno portato al fermo di sette affiliati al clan d'amico, costola del gruppo camorristico Mazzarella. Le indagini coordinate dalla DDA e dai carabinieri sono proseguite. Il 24 novembre i carabinieri hanno dato atto a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di altre due persone. Gli arrestati sono ritenuti a vario titolo responsabili di omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto illegale di armi, comuni da sparo, incendio, ricettazioni, aggravate dalle finalità mafiose. Un novantenne di Agropoli nel Salernitano è stato imbavagliato legato alla sua sedia a rotelle e rapinato in casa della pensione da poco ritirata in azione due, forse tre malviventi che hanno portato via anche del denaro trovato nell'appartamento per un bottino complessivo di circa 4.000 euro. A far scattare l'allarme alcuni vicini sul posto di vigili urbani e di carabinieri, oltre ai sanitari del 118, che hanno trasferito l'anziano in ospedale in stato di shock. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di regionalismo differenziato. Comune di Napoli e Università firmano un protocollo d'intesa contro la riforma per il sindaco De Magistris. C'è chi anche nel PD rincorre la Lega e attacca il governatore De Luca. Sentiamo. Comune di Napoli e Università Federico II impegnate sul tema dell'autonomia differenziata delle regioni. Già da qualche mese l'Ateneo Napoletano ha dato vita all'osservatorio sul regionalismo differenziato presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Nato con l'obiettivo di fornire una considerazione dei fatti attraverso il lavoro scientifico. Ora quei dati saranno messi al servizio dell'ente per formulare soluzioni diverse da quelle che prevede la riforma in atto richiesta dalle regioni del nord, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E proprio sul dibattito che si è scatenato in Emilia alla vigilia delle elezioni, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, esprime una forte critica nei confronti del candidato del PD, Bonaccini, allargando il discorso poi anche al governatore De Luca. Secondo Deema, sedersi al tavolo delle autonomie come ha fatto De Luca è stato un errore. Perché qua discutiamo della pelle viva degli italiani nel distribuire competenze e ruoli tra Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni. A me il regionalismo differenziato non piace per nulla, lo trovo pericoloso, trovo pericoloso anche che la fotocopia cerca di inseguire l'originale, basta vedere il dibattito sull'Emilia-Romagna, le posizioni tra Zai e Bonaccini sono molto simili. Noi siamo per dare forza ai comuni, anche un po' le sorti del governo sono appese a questa competizione regionale e quindi è evidente che si stanno giocando tutte le cartucce, però è un po' sintomatico e per vincere devi inseguire la Lega. Poi è chiaro che De Luca come altri si sono andati, invece di contrastare questa forma di regionalismo, si sono andati a sedere al tavolo per vedere quanto era grande la torta che poteva interessare i presidenti delle regioni. Io sono assolutamente contrario all'assetto di come oggi sono le regioni, le regioni non hanno raggiunto il loro obiettivo. E botta e risposta tra i penalisti Irpini e l'ordine dei giornalisti. Questa mattina gli avvocati hanno tuonato contro la stampa per la pubblicazione degli atti. Il presidente Lucarelli però ha replicato e ha detto che il diritto di cronaca non è un optional. Il diritto di cronaca, gli atti giudiziari resi pubblici. Il dibattito si è aperto questa mattina quando la Camera Penale di Avellino ha tenuto una conferenza stampa sulla protesta contro la prescrizione. In questa occasione il presidente Petrillo ha tuonato contro i giornalisti per la tutela degli indagati, in riferimento all'inchiesta tuttora in corso sulle asse giudiziarie che vede indagati alcuni avvocati. Il problema è che è una vicenda che coinvolge il Palazzo di Giustizia di Avellino. Ora, che siano coinvolti come destinatari di un'informazione di garanzia o come un decreto di perquisizione dei colleghi è una circostanza che a noi dispiace enormemente e tuttavia come nei confronti di qualsiasi altro cittadino noi diciamo fin quando l'ipotesi dell'accusa non trova una conferma attraverso un passaggio davanti al giudice, i colleghi come tutti i privati cittadini a nostro giudizio non possono essere menzionati nome, cognome, residenza, domicilio, attività sulla stampa perché credo che l'avvocato come il medico, come l'imprenditore viva di reputazione. Immediata la risposta del Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania che ha detto il diritto di cronaca non ammette eccezioni, i penalisti avellinesi ritengono che il diritto di cronaca sia un optional quando sono loro a finire nelle inchieste. Sarebbe inaccettabile anche perché al centro dei fatti c'è un'indagine dell'antimafia e ogni tentativo di delegittimazione mette a rischio il lavoro dei cronisti. Agli avvocati chiediamo rispetto e senso di responsabilità. Vigili del Fuoco in festa oggi in Campania per Santa Barbara, patrona del Corpo Tempo di Bilanci per i cinque comandi provinciali e le decine di distaccamento territoriali. In aumento gli interventi effettuati nonostante le gravi carenze di personale. Vediamo. Il pompiere paura non ne ha, il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha, il ritornello intonato da decine e decine di bambini che questa mattina hanno partecipato in campania ai festeggiamenti dei Vigili del Fuoco in onore della patrona Santa Barbara. In tutti i capoluoghi di provincia, missa e premiazione dei Vigili del Fuoco che più si sono contraddistinti nelle attività di soccorso. A Salerno il comandante provinciale Rosa dell'Iseo ha colto l'occasione anche per una riflessione e un bilancio sull'attività dei caschi rossi. Noi abbiamo fatto quest'anno al momento attuale più di 12.500 interventi, quindi abbiamo superato già adesso di circa 500 interventi l'anno precedente, il 2018. I mezzi ne abbiamo, uomini sempre pochi. A Benevento un pensiero speciale è stato rivolto ai Vigili del Fuoco, tragicamente morti nell'esplosione dolosa di un casolare ad Alessandria. Quest'anno è un po' più triste degli altri anni, ci sono avuti questi tre ragazzi che sono morti ad Alessandria e che veramente sono morti in una situazione davvero incresciosa, un po' anomala rispetto ad altri incidenti che si sono verificati in qualche altro anno. Spettacola d'Avellino dove gli specialisti Saffa hanno srotolato un maxi tricolore, positivo il bilancio per il comandante provinciale Luca Ponticelli nei primi mesi di attività in Irpinia. Con il personale che abbiamo, che è personale di valore, riusciamo comunque a far fronte alle varie emergenze e quando non riusciamo con le forze nostre il corpo nazionale è grande e ci viene in soccorso. Nel giorno in cui annuncia la svolta per il cantiere di Porta Ovest a Salerno, il governatore Vincenzo De Luca parla anche del concorsone regionale bandito per l'assunzione di migliaia di giovani e dice di aver parlato con Mattarella dell'aggressione subita ad Aversa. Ascoltiamolo. Altri 60 milioni dalla regione per risolvere il nodo delle intersezioni tra galleria e uscite stradali e autostradali ma soprattutto il lavoro di coordinamento per la firma della convenzione tra autorità portuale e autostrade meridionali per sbloccare il cantiere di Porta Ovest. Vincenzo De Luca ha fatto tappa a Salerno per annunciare il via libera ai lavori per ultimare le gallerie che collegheranno il porto cittadino agli assi viari più importanti. E' una delle grandi opere strategiche che abbiamo progettato per la città di Salerno, Porta Est, Porta Ovest, Trincerone Ferroviario e completamento della lungo iso. Siamo stati sfortunati come in tante grandi opere, il cantiere si è interrotto per problemi relativi all'impresa che ha vinto la gara il 2013. Abbiamo la possibilità di chiudere quest'opera per primavera del prossimo anno se lavoriamo con intensità e senza disturbi particolari. La regione ha finanziato per altri 60 milioni di euro la parte terminale di quest'opera. Abbiamo reperito altre risorse perché non è ancora risolto il problema delle interferenze fra il traffico che viene dal tunnel e il traffico dell'autostrada sud. Il governatore ha anche affrontato altri argomenti a cominciare dal concorsone bandito dalla regione. Stiamo facendo la guerra per concluderlo, ha detto. A metà gennaio si faranno le prove scritte per i 10.000 selezionati e nello stesso mese De Luca conta di mandarne al lavoro almeno 3.000. Non è mancato poi un riferimento alla denuncia penale dopo il lancio di sacchetti di immondizia avvenuto ad Aversa. Ho parlato con Mattarella ma adesso dobbiamo parlare dei Porta Ovest, il resto è folclore. Di Maio come leader è finito l'alleanza di governo, è in atrofia e può darsi che si voti contestualmente per le politiche e le regionali. Per Clemente Mastella la crisi è alle porte. Ascoltiamo. È evidente che Di Maio vuole rompere per poi fare un accordo con Salvini. Di Maio come leader è finito. Ritengo che ormai le elezioni politiche anticipate siano prossime ed è probabile che si svolgano contestualmente. Clemente Mastella e il governo alle ore contene. È un'alleanza di atrofia. Non so se peraltro regge. Magari voteremo prima per le politiche e poi per le regionali. Magari regionali, campane e politiche assieme. Così non c'è una governanza per l'Italia, è un atteggiamento irresponsabile con fronte dell'Europa e così non si riesce a procedere. Tornando alla posizione di Di Maio Mastella continua. Questa è la sua unica possibilità di sopravvivenza e conseguentemente finirà per spaccare il Movimento 5 Stelle. Il Premier Conte a sua volta farà anche lui una lista. Resta solo da capire cosa farà Salvini. Resterà fedele all'alleanza di centrodestra o farà come alle scorse elezioni politiche? Di certo Di Maio lo inseguirà. E ancora sui 5 Stelle. È venuta la Ciarambino che inutilmente sarà candidata a Presidente della Regione, inutilmente perché insomma mi pare che sia un po' inutile in tutto, ha detto Mastella è un dinosauro. Io ho detto è vero. Perché avendo vissuto con i dinosauri tante ere glaciali ho visto una serie di cose. Ho visto che siete incapaci, irresponsabili, senza alcuna forma di capacità di riuscire a guidare i processi che ci sono oggi in Italia. Ho detto parli in maniera da Cesare, con la Germania di Cesare. Mastella sarà ancora Mastella, ma non ci sarebbe più. Continuo il braccio di ferro sulla delocalizzazione del terminal bus di Avellino. Salta l'incontro fissato per domani in provincia e intanto la Regione prova a mediare i servizi. La città di Avellino vive un vuoto amministrativo. Va bene l'Enjoy City, ma qui Festa sta depauperando tutti i servizi comunali. Attacca frontalmente il consigliere di opposizione Dino Preziosi. L'emblema di questa amministrazione è la questione terminal bus. Festa e Biancardi non possono delegare all'AIR, devono essere i primi attori in questa vicenda. Il presidente della provincia è colui il quale firma il contratto con la società affidataria dei servizi extraprovinciali, per cui deve essere il primo attore e non il mediatore per quanto riguarda le linee extraurbane, mentre il sindaco di Avellino deve essere il primo attore per quanto riguarda le linee urbane. Io fossi in AIR non mi sposterei perché avrei bisogno di zone cosiddette zonizzate dove si può stazionare, che Avellino ancora non ha fatto un programma di questa zona. Ieri Luca Cipriano aveva rincarato la dose. Festa evoca presunte manine regionali dietro all'ostruzionismo di De Sio. La verità è che se l'AIR dice che il trasferimento non si può fare, si deve chiudere la partita e non creare questo risico così caotico. Festa risponde a entrambi. Per ciò che concerne quanto dichiarato dal consigliere Preziosi sono d'accordo. È giusto che la linea, la dettino comune e provincia, così stiamo facendo. Quindi da questo punto di vista sono contento che sposi la posizione del sindaco di Avellino per ciò che concerne Cipriano, mi rendo conto che è complicato ammettere che c'è un sindaco eletto che in quattro mesi sta facendo cose che in 40 anni non si sono mai fatte. E intanto un utente dell'azienda di trasporti Irpina attraverso queste due fotografie inviate alla nostra redazione denuncia le condizioni disumane con cui si è costretti a viaggiare quotidianamente sui mezzi che coprono la provincia di Avellino e il collegamento con Napoli. A Benevento si moltiplicano i messaggi di solidarietà per la maestra picchiata dalla madre di un'alunna. Un gesto intollerabile attuonato il sindaco Clemente Mastella. Insegnanti, sindacati e istituzioni a Benevento vicini alla maestra della scuola dell'infanzia picchiata lunedì all'interno della scuola San Filippo dalla madre di una piccola alunna. Il sindaco Clemente Mastella ha avuto un lungo colloquio telefonico con la docente. Una telefonata accorata con la quale il primo cittadino ha espresso solidarietà alla donna. Occorre reagire con fermezza attuonato il sindaco Mastella e fare in modo che si ristabiliscano le regole minime di rispetto e confronto all'interno delle scuole. Mastella rivolge poi un accorato appello ai genitori affinché rifuggano da comportamenti diseducativi. Essi adoperino invece assieme ai docenti nell'opera di educazione civica e di insegnamento dei valori della convivenza civile. Intanto questa mattina i colleghi dell'insegnante aggredita hanno organizzato una manifestazione di solidarietà e di condanna del vile gesto. L'appuntamento è per domani sera a Piazza Roma dove si ritroveranno uniti anche i sindacati della scuola che hanno espresso parole di sdegno per l'accaduto ed acceso i riflettori su una situazione negli istituti scolastici che sta diventando intollerabile proprio nei rapporti tra genitori, figli e professori. Siamo al lavoro ma non si risolvono 40 anni di cattiva gestione. In pochi mesi il presidente della provincia di Salerno, Michele Estrianese, risponde così ai comitati civici di Battipaglia che chiedono la chiusura dello stir. Dura a fondo da parte del presidente della provincia Michele Estrianese sulla possibile chiusura dello stir di Battipaglia, l'impianto ospita tonnellate di rifiuti provenienti dal Salernitano, paventata da alcune associazioni del territorio. Per i comitati civici ora il sindaco del comune della Piana del Sele, Cecilia Francese, deve firmare un'ordinanza per fermare il sito che presenta una serie di problematiche ambientali e legate alla sicurezza. È il caso definitivamente di far capire a tutti che non è possibile che una politica sbagliata, non attenta, che ha favorito l'insediamento di tanti impianti che trattano rifiuti a Battipaglia nelle zone nimitrofe, non può essere addebitata a questa amministrazione provinciale, né a questa regionale, che ci stanno mettendo la faccia invece su una problematica delicata, complessa, rispetto alla quale si pretende, e questo il mio messaggio va sia alle istituzioni sia ai comitati, ai quali mi rivolgo con grande rispetto, però non si può continuare a pretendere che in 30, in 40, in 50 giorni questa provincia, questa regione possano risolvere un problema che si è generato da 40 anni. Strianese ribadisce l'impegno della regione e della provincia per risolvere la delicata questione dello stir. Abbiamo fatto già un monitoraggio, abbiamo una situazione più chiara e stiamo cercando di determinare il da farsi per cercare di trovare una soluzione. Rinnovata questa mattina a Benevento la convenzione che consente il progetto di continuità assistenziale domiciliare per i pazienti onco-ematologici. Assicurare a casa le stesse cure che si possono avere in ospedale a pazienti onco-ematologici che si trovano in condizioni di maggiore fragilità. L'obiettivo del progetto di continuità assistenziale ematologica domiciliare, che oggi è stato rinnovato con una convenzione stipulata tra l'azienda ospedaliera Sampio di Benevento e l'AIL, l'associazione contro le eucemie, linfomi e mieloma. Sono patologie molto particolari che comportano grossi problemi per i pazienti, per cui avere le stesse cure che si hanno in ospedale a casa è un vantaggio enorme per i pazienti. Poi soprattutto quando si tratta di persone anziane con altre patologie, questo permette di dare un servizio veramente fondamentale per questi pazienti. Non possiamo assicurarlo a tutti i pazienti del The Hospital, ma vengono selezionati caso per caso, pure secondo le condizioni dei pazienti. Entusiasta del progetto il direttore generale del Sampio, Mario Ferrante. Noi dobbiamo avere questa sensibilità per i malati fragili e avere convenzionato di nuovo questa attività con voi, con l'AIL, non fa altro che sancire questa nostra disponibilità ma anche questo nostro trasporto, perché i pazienti fragili sono quelli che hanno più bisogno, sono quelli che sono più soggetti ad avere problematiche complesse e quindi noi ci siamo. L'associazione ci aiuta. La mattinata si è conclusa con il taglio del nastro della nuova auto della sezione Beneventana AIL per garantire il servizio di continuità assistenziale. Parliamo ora di innovazione, la stazione marittima di Salerno da domani, la due giorni del premio Best Practice promosso da Confindustria. Dopo 14 tappe regionali e nazionali, la stazione marittima di Salerno ospita la tredicesima edizione del premio Best Practice per l'innovazione. Sono ben 100 i progetti in gara nell'anno del centenario di Confindustria Salerno. 116 progetti, circa 45 aziende tra quelle in gara e le che esistono delle elezioni precedenti e circa 60 start-up suddivise tra start-up generaliste e start-up della nuova sezione del premio, quella dedicata all'economia del mare. Quindi la sezione Blue Act che è un progetto che viene condotto in collaborazione con il Comune di Salerno, con la Camera di Commercio e con l'autorità portuale. Il Presidente Robiglio ci porterà uno scenario più ampio che mi auguro che qualche cambiamento ci sarà per le PMI ma ci può essere anche forza di qualche spunto, di qualche suggerimento che parte da questo territorio e che possa essere uno sviluppo per tutti. È una grande sfida per noi come Comune perché un Comune che promuove e che partecipa a una competizione di start-up è una cosa nuova, è un ambito nuovo nel quale un Comune inizia a misurarsi. Questo sicuramente ci può dare un valore aggiunto a questa sezione perché il Comune in quanto ente può mettere a disposizione una rete, un marchio alle start-up che vengono selezionate per poterle accompagnare a trovare una strada di successo. In Irpini resta un sorvegliato speciale il Viadotto Manna in Valle Ufita dove è ancora in atto il senso unico alternato ma la nota positiva almeno è l'avvio delle opere di missa in sicurezza da parte dell'ANAS. Viadotto Manna, Ariano Irpino, è corsa contro il tempo per la messa in sicurezza dei pulvini di sostegno dell'impalcato, un'opera lunga circa 190 metri con più campate costituita da sette travi in calcestruzzo armato precompresso, piloni e travi interessati da interventi di manutenzione straordinaria tesi ad eliminare il rischio di un loro cedimento dopo l'allarme più volte lanciato negli anni scorsi da automobilisti e residenti. L'ANAS dal canto suo dopo le ripetute segnalazioni da parte di amministratori locali, associazioni, forze dell'ordine vigile del fuoco, aveva provveduto a monitorare il viadotto e delimitare la zona all'ingresso di Contrada Torriamando a pochi metri dalla scuola materna ed elementare posizionando un fessurimetro per verificare l'evoluzione delle lesioni formate sulla superficie della struttura in questione ed effettuato una serie di prove di laboratorio. Un investimento nell'operazione pari a circa 800 mila euro con affidamento delle opere ad un team di imprese. Autorizzazione sismica disposta dal genio civile, salvo imprevisti, l'ultimazione di questa prima fase dei lavori è prevista non prima della prossima primavera. Il prossimo intervento, non meno importante, riguarda il vicino viadotto Castello, situato al chilometro 24 della stessa arteria. Sul versante opposto, nella valle del Miscano, nuovi cedimenti sulla 90 bis del territorio di Casalbore. L'ANAS si è vista costretta a distituire anche qui un senso unico alternato, una situazione di dissesto in una zona trafficata già nota per i suoi pericoli e da tempo monitorata. Moda, musica e spettacolo a Salerno con la quinta edizione del Diva Day, evento in programma l'8 dicembre in piazza Portanova. Filo conduttore della Kermess sarà il rosso colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Vediamo. Non solo modo e spettacolo ma anche spazio a temi sociali. Sarà questo il filo conduttore della quinta edizione del Diva Day in programma domenico 8 dicembre nella centralissima piazza Portanova a Salerno. Questa mattina al Terzo Tempo Village la presentazione delle tante novità previste per l'edizione 2019. La novità sarà una sposa comunque molto strong, una sposa che è di carattere, che quindi rappresenta il suo essere anche col suo abito da sposa e anche con l'abito da cerimonia, quindi anche per le invitate questo look molto molto esagerato tra virgolette ecco. Quest'anno inoltre la Kermess avrà come filo conduttore il rosso simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Anche perché la nostra azienda al 90% è rosa quindi più di noi chi potrebbe tra l'altro rappresentarla ecco. Dalla moda dunque all'impegno per il sociale. Non solo una Kermess di moda che regala a tutti i turisti e salernitani, illumina piazza Portanova come tutti gli anni, però quest'anno con un tema sociale particolare, un tema che mi sta particolarmente al cuore, la violenza contro le donne. Donne quindi protagoniste indiscusse della manifestazione. Ci piaceva molto l'idea che la donna è al centro di questo evento, questo è stato come dire un po' il punto che ci ha fatto riflettere e decidere di essere presenti perché è una cosa, è un punto sul quale anche noi da anni portiamo avanti. E con questo servizio si chiude il nostro TG curato in regia da Amato di Sunno e vi ringrazio per aver scelto l'informazione regionale di 8 Channel 696 e vi lascio alle previsioni meteo di domani, grazie e buona serata. Grazie a tutti.